Testa alta, Eugenia, dai! Vai, Eugenia! Vai, 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 vai! Lavoro, Eugenia, lavoro! Su di lei, vai a prendere una gamba, Eugenia, vai, vai su gamba! Dai, Eugenia, dai! Alla giletiamo avanti, avanti! Dai, Eugenia, dai! Vincere un taglio, super taglio! Beleia, Eugenia, da due giorni, c'è c'è! Diciamo una volta! Vai, 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 vai! No, questo lo è! Vincere un taglio, più duro! Vincere, Graziano, risalto, rispettica, terzo posto nell'antegoria più 100 kG. sui datami 6 il finale è più cento di programmi datami con Nicola se moreno 3 datami con lo 5 si preparano stanno lavorando alla Liguria a Liguria i signori De Nardi